Cantieri aperti con sei famiglie ancora dentro le casette in Canada, nelle zone di Monte Rosello a Sassari. I lavori di ristrutturazione, che interessano la seconda tranche di 12 appartamenti, sono iniziati senza aspettare che tutte le famiglie avessero traslocato temporaneamente negli alloggi messi a disposizione dal comune. La pericolosità del cantiere non rende sicura la loro permanenza, anche per quanto riguarda la produzione di polveri che respirano, tanto che le lamentele delle famiglie hanno allarmato e fatto intervenire la polizia locale, che hanno provveduto a multare la dita appaltatrice Vacomich, per cantieri in custodito e non in sicurezza, per circa 1000 euro. Oltre alla multa, il problema resta. Infatti i lavori proseguono e le sei famiglie continuano ad occupare le loro abitazioni, tra questi un detenuto agli arresti domiciliari che non può trasferirsi fino a che l'autorità giudiziaria competente non dà l'autorizzazione. Resta ancora un dubbio. È vero che la dita appaltatrice ha dato la via al cantiere in condizioni di non sicurezza, ma dall'altra il comune di Sassari ha dato la comunicazione di inizio lavori.